Benvenuti a In Giro In Giro Dall'America le nuovissime e rivoluzionari super stringhe salvavita multiuso stringazzi resistenti, signorili, adattabili ad ogni tipo di scarpa morbide, eccitanti, lavorate a mano, di facile applicazione le stringhe multiuso stringazzi possono essere usate oltre che per scarpe anche per i vostri giochini erotici donando grandi soddisfazioni alla vostra compagna o al vostro compagno stringazzi è vicino alla vostra igiene dentale anche nei momenti più impensabili della giornata permettendovi di sentirvi a vostro agio in ogni situazione le stringazzi sono dotate di due spinotti ad alta conduzione elettrica basta la vostra normale presa di corrente di casa per ricaricarle di notte e l'operazione è semplice e sicura non serve altro che inserire uno dei due spinotti nella presa ed in poche ore le stringhe stringazzi sono di nuovo pronte all'uso quando dimenticate le stringhe slacciate e queste vanno a toccare terra ecco che le simpaticissime stringazzi liberano una scossa da 250 volte che vi avvisa con discrezione senza inutili suoni e fastidiosi luci che state correndo un enorme pericolo quando la fretta vi fa dimenticare di allacciarvi le scarpe ci pensano le stringhe stringazzi mai più rovinose cadute mai più contusioni mai più antiestetici ematomi da oggi nella nostra vita sono arrivate le super stringhe stringazzi this is life